Un po' abbastanza centrale in questo senato. Non ho novità, lei mi ha chiesto novità, non ho novità. In questo incontro c'è qualche cosa, qualche segnale? Io non ho partecipato a nessun incontro e non credo che... Alla cabina di regia ha partecipato? Alla cabina di regia, è un incontro tra amici di partito. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Questo sì che è understatement, avete sentito Zanda che è il tesoriere, il responsabile amministrativo del Partito Democratico, l'ex capogruppo al Senato, che come avete visto è sentito derubrica la stessa cabina di regia a una sorta di scampagnata, di incontro con la pizza e le bibite nella sede del partito. In realtà stanno aspettando il segnale. Scusa.